No vaccine, no bullshit, nothing. No, non ho fatto il vaccino perché mi fido di Dio. Dio è più forte del vaccino. Studio la Bibbia 12 ore al giorno. Questo che vedete alle mie spalle è il muro del pianto. Al di là c'è la cupola della roccia. Sono i due luoghi fondamentali per due delle religioni più importanti al mondo, l'Islam e la religione ebraica. In uno spazio ristretto si costringe una convivenza forzata, difficile, complessa e spesso vulnerabile. Preghiere collettive senza mascherina, partecipazione massiccia a matrimoni e funerali anche in piena pandemia. Tutto questo non li ha risparmiati dal contagio. Uno su tre di loro ha contratto il virus. Non credo che Dio voglia che io abbia paura del virus. Ci protegge da tutto. Egli può cambiare tutto. E ci porterà presto alla redenzione. Li incontriamo tra le strette vie della capitale contesa, tra ibraismo e Islam. Tra un checkpoint di controllo e un altro ci spiegano qualche particolare dell'oravigliamento. E' ordinata dalle leggi della Torah, per non dimenticare Dio e proteggere dai demoni e mostrare agli altri che sei ebreo. Il Ministero della Salute israeliano ha un intero dipartimento che si occupa solo di loro, cercando di sensibilizzarli a seguire le norme anti-Covid. Ma c'è ancora molto lavoro da fare. Non ho fatto il vaccino e non lo farò mai. Non ho paura del virus, perché Dio è l'unico. L'unico, solo l'unico!